come posso dormire in un momento come questo deve essere qualcosa come un riflesso da panico sì, panico panico? PANICO! PANICO! AIUTA! oh, pulsante antipanico wow, Splantone è diventato grande e... e lui ha... Spongebob? oh, oh no! oh, e adesso che posso fare? oh, rifletti, rifletti, rifletti no, niente idea oggi MERMAID MAN! cosa è questa confusione? sto cercando di dormire sono STELLA MAN! facciamo squadra? dai, dai, dai giusto, Ray, sono qui a Bikini Bottom per...